prenotare un appuntamento con il tuo personal tech suprema è facilissimo nell'area progettisti vai in consulenza tecnica online da qua puoi selezionare il tuo servizio ovvero l'argomento il prodotto o il software sul quale più ti interessa avere informazioni una volta fatto questo non ti resta che selezionare una data e un orario potrai anche scegliere chi del personal tech vuoi contattare se non hai preferenze lascia chiunque una volta fatto questo potrei facilmente accedere a tutte le informazioni del tuo appuntamento ti verranno inviate via mail ma le potrai anche visualizzare qua puoi facilmente modificare la pianificazione annullarla o fare un'altra prenotazione